Il Comune di Fasano intende partecipare a finanziamenti pubblici per la selezione di proposte volte alla riduzione del rischio incendi. E tutto questo anche sulla base di ciò che è avvenuto negli anni scorsi con gravissimi danni di carattere ambientale per l'intero territorio fasanese e soprattutto con l'accertata incapacità a fronteggiare situazioni di grave pericolo senza dover fare ricorso al solo intervento dei Vigili del Fuoco che a loro volta sono costretti a fare i conti con gravi carenze di organico. Il Sindaco Francesco Zaccaria e l'assessore con delega alla protezione civile Gianluca Cisternino stanno seguendo da vicino questa fase del procedimento in quanto è preciso intendimento dell'amministrazione comunale mettere in sicurezza le zone del territorio particolarmente vulnerabili in relazione agli incendi boschivi oltre che in relazione a ogni tipo di rischio. La struttura comunale di protezione civile ha preparato una specifica progettualità per partecipare a questa opportunità. Il Bando per la selezione di proposte volte alla riduzione del rischio incendi prevede, tra le altre procedure, l'obbligo di coinvolgere il partenariato economico e sociale della Regione Puglia in relazione al protocollo d'intesa sottoscritto dal PES con Anci Puglia. Nei giorni scorsi si è già svolta una riunione in cui è stato illustrato il progetto e sono stati acquisiti suggerimenti e proposte. Il Comune di Fasano partecipa per un finanziamento che può raggiungere i 75 mila euro e in questa fase la collaborazione con le parti interessate della società civile è passaggio utile per la completezza della domanda di partecipazione alla selezione e per il concreto raggiungimento dell'obiettivo di sicurezza per la popolazione e per i cittadini.